buonasera ragazzoni benvenuti o bentornati in questo nuovo tgcrime in cui vi devo aggiornare su tutte le notizie che vi ho dato nello scorso tgcrime perché ci sono dei plot twist dei colpi di scena dei ribaltamenti di ciò che sembrava e non è ciò che era e sembrava altro e diciamo che tutte le notizie che vi ho dato nella scorsa edizione oggi saranno un po' trasformate parleremo del massacro di varese dove marco ha raccontato la sua versione ed effettivamente con nuovi elementi la dinamica è un attimo diversa ma lui resta comunque a mio parere una brutta persona bruttissima persona questo contenente poi dobbiamo parlare dell'omicidio suicidio di palermo che sembrava effettivamente un caso chiuso sembrava una dinamica risolta e semplice nella propria interpretazione e invece sembra che qual quadra non cosa perché l'assassina in questo caso quella che è stata identificata come l'assassina si sarebbe sparata due volte e quella che inizialmente sembrava una ferita di poco conto in realtà era una ferita mortale quindi ci si chiede come sia possibile che questa donna si sia potuta sparare mortalmente due volte. Parteremo poi della scomparsa di una ragazzina di 17 anni fuggita insieme al suo cane che non dà notizie da una settimana e ovviamente ci auguriamo che stia bene e che sia protetta insomma da qualche parte da qualcuno che le voglia bene e non le faccia ovviamente del male e dobbiamo parlare dell'intervista di Milena Santirocco che ha rilasciato a chi l'ha visto in cui ci ha raccontato con le sue parole che cosa ha vissuto in quei sei giorni di scomparsa. Parole che già vi anticipo non mi risultano molto a dire il vero credibili tuttavia è la verità che lei al momento si sente di raccontare e noi non siamo nessuno per smentirla o per addirittura insomma insultarla o darle contro come ho visto fare a molti sui social perché ho visto che ormai il pubblico di chi l'ha visto è di questa di questo stampo se gli scomparsi vengono ritrovati li odiano se crepano invece insegna gli angeli a fare cose. comunque a voi dello youtube vi invito a mettere iscriviti a questo canale soprattutto se vi piace chi l'ha visto così ne parliamo insieme e no dai mettetelo comunque anche se non vi piace chi l'ha visto anche se non l'avete visto chi l'ha visto mettete iscrivervi al canale perché iscrivetevi al canale perché aiuta tantissimo il mio a svettare nelle cose insomma non finirà in chi l'ha visto il canale e mettete like a questo video se vi piace anche se non vi piace mettetelo adesso così per sicurezza l'avete già messo anche se poi non vi piace e mi raccomando venite a trovarci qua su twitch. noi siamo in diretta ogni martedì giovedì e domenica con queste meravigliose personcione che sono qui e questo gatto scemo chi ha detto bravo ma il mio microfono è troppo scarso per sentirlo grazie andiamo a parlare di quello che è successo a varese ne abbiamo già parlato perché altro parliamo degli sviluppi il 6 maggio si è consumato questo massacro a varese per mano di un avvocato quarantenne marco manfrinati che ha aggredito a pugni e coltellate in viso la sua ex la vinia limido la vedete qua sfigurandola completamente praticamente il suo obiettivo penso fosse quello di ucciderla visto che l'ha distrutta nei suoi tratti facciali ma la colpita anche al collo quindi è un miracolo il fatto che lei attualmente sia ancora in vita purtroppo non ha avuto la stessa fortuna suo padre il padre di la vinia franco limido che si trovava lì anche lui o limido continuo probabilmente a sbagliare l'accento si trovava sul luogo anche lui perché appunto marco ha aggredito la ex proprio sotto all'ufficio dove lei lavora quindi ha aspettato che uscisse per la pausa pranzo per poi aggredirla il padre è il datore di lavoro insomma di la vinia quindi anche lui lavora nello stesso ufficio quindi sentendo le urla della figlia è sceso per salvarla ha intervenuto per salvarla e purtroppo le ha salvato la vita a costo della sua perché franco purtroppo è stato ucciso da marco la dinamica di questo omicidio tentato omicidio è un po' diversa da quella che ci è stata raccontata in prima battuta dai giornali come sempre all'inizio quando non sanno le cose i giornalisti se le inventano poi escono fatti più fedeli alla realtà fanno finta di niente e ne riscrivono vabbè io invece ho già registrato il video e faccio la figura della tonna intanto fisso è che marco era stato effettivamente denunciato dalla sua ex moglie e dai suoi genitori quindi dagli ex suoceri per stalking e violenze e maltrattamenti insomma cui era stato anche recentemente rinviato a giudizio aveva ricevuto un rinvio a giudizio di recente lui era comunque piede libero nonostante ovviamente vigesse su di lui un divieto di avvicinamento tutta la famiglia della ex compreso loro figlio di tre anni cosa è successo? due anni fa Lavini e i suoi genitori hanno denunciato Marco perché lui faceva appostamenti inseguimenti la picchiava ha picchiato anche i genitori di lei la minacciava di morte insomma due anni fa lei denuncia un anno fa quindi dopo un anno dalla sua denuncia riceve un divieto di avvicinamento ma ovviamente Marco se ne sbatteva altamente le balle di questo divieto di avvicinamento e si avvicinava quando cazzo gli pareva sostanzialmente e si avvicinava così tanto come cazzo gli pareva che alla fine è riuscito anche a tentare di uccidere la ex e uccidere suo padre ovviamente questa vicenda accade in centro diciamo in un luogo centrale quindi gli inquirenti riescono alle forze dell'ordine riescono a intervenire in maniera tempestiva tuttavia purtroppo per Franco era troppo tardi lo arrestano lo arrestano tra l'altro con faccia molto soddisfatta questa è la sua espressione quando viene arrestato sulla destra e quando viene caricato sulla macchina della polizia sulla sinistra quindi direi che c'è enorme soddisfazione rispetto a ciò che ha appena fatto stronzo che non è altro e in un primo interrogatorio davanti al PM Marco si avvale della facoltà di non rispondere ricordiamoci che è comunque un avvocato di talento quindi sa benissimo che gli conviene davanti al PM non rispondere mercoledì 8 maggio in occasione dell'interrogatorio di convalida davanti al GIP Marco decide di parlare e di raccontare la sua raga vi faccio uno spoiler lui si è solo difeso ma poverino no raga 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 vedrete 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 che lui poverino poverino è un cane senza mutande no ma cioè dovete proprio dovete vedere cosa dice perché la dinamica nella sua ricostruzione effettivamente ci convincerà che è lui la vittima è lui allora lui piange davanti al GIP piange io ti volevo vedere piangere qui perché questa non è la faccia di poi uno che poi piange davanti al GIP stronzo scusate mi sta veramente sul cazzo questo tipo però a me stanno sul tazzissimo i killer che sono intelligenti che hanno la possibilità di avere tutto nella vita che hanno risorse, che hanno studi, che hanno una bella professione che hanno la possibilità di rifarsi una vita anche se magari con la prima compagna non è andata bene e diventano degli stronzi, degli stalker cioè mi fanno incazzare tantissimo questi killer qua non mi fanno incazzare per niente pochissimo i killer invece che li vedi che poracci cioè hanno una vita disagiatissima magari sono tossicodipendenti magari hanno degli evidenti disturbi mentali magari vengono da un contesto di degrado non hanno mai imparato cosa significa il rispetto è per quello che mi fa incazzare lui perché lui poteva avere tutto dalla vita e invece si è incancremito che poteva anche perdere tutto l'importante era vendicarsi della ex terribile mi fanno veramente girare i coglioni tra l'altro persone che potrebbero anche avere i mezzi e l'intelligenza di rendersi conto di avere un problema e prima di rovinare la vita agli altri magari cercare di risolvere la propria facendo un percorso di psicoterapia magari molto più strutturato di qualcuno che magari non se lo può permettere invece no col cazzo che mi curo io distruggo te piuttosto questo mi manda nei matti per quello che con lui mi vedete veramente fuori di testa rispetto a tutti gli altri omicidi di cui vi parlo comunque dobbiamo parlare di cosa ha raccontato Marco allora lui piange davanti al jeep dice che ha avuto un blackout un blackout che lo ha portato a sfigurare la ex riducendola in fin di vita lui ovviamente dice che non la voleva uccidere perché deve stare sul tentato no? chiaro non la voleva uccidere la voleva solo sfigurare per vendetta quindi tutto calcolato raga tutto calcolato poi dopo averla colpita ha avuto una sorta di risveglio una sorta di di presa di coscienza di quello che stava facendo si è reso conto di quello che aveva fatto in questo blackout quindi era rientrato in macchina con il proposito di raggiungere la caserma più vicina per costituirsi non per scappare no non per turettare in giro no 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 lui voleva costituirsi certo certo che è molto credibile questo ratus questo blackout momentaneo visto che erano mesi che stava progettando questo omicidio visto che erano ore che stava facendo le vasche con la macchina davanti all'ufficio di lei nell'attesa che lei scendesse quindi cioè qui c'è anche una bella premeditazione voglio dire comunque ma lui poverino voleva andare a costituirsi e cosa succede? lui sfigura lei col pugni e coltellate in faccia poi si risveglia rientra nella sua macchina per andare mette in moto e fa per allontanarsi per andare a costituirsi in quel momento arriva il padre arriva Franco Franco impugna una mazza da golf e si avventa sulla macchina di Marco perché vede che lui si sta allontanando no? e quindi mentre Marco era in macchina stava per ripartire si vede il padre di Lavinia con questa mazza da golf che comincia a fracassargli tutta la macchina quindi non è più vero falso che Marco è sceso dalla sua macchina ha cominciato a prendere a pugni la sua stessa macchina e quella le macchine circostanti le macchine circostanti non sono mai state danneggiate né da Marco né da nessun altro è stata danneggiata la sua macchina ma non è stato Marco a prenderla a pugni questa cosa se l'ha inventata se la sono inventati i giornalisti di sana pianta è stato il padre Franco che per fermarlo in qualche modo ovviamente vedendo sua figlia che era in un lago di sangue senza più la faccia aveva una mazza e ha detto cioè io adesso ti sbrago ma ovvio quindi quando ha visto che Marco se ne sta andando con la macchina Franco ha cominciato a spargli la macchina con la con la mazza da golf posso dire giustamente cosa dovevi fare cioè voglio dire un padre di 71 anni che si vede la figlia a terra senza più la faccia in un lago di sangue con la coltellata che il sangue gli esce dappertutto dai eh e gli spacca il vetro dell'unotto gli spacca i vetri della della macchina per difendersi perché ovviamente spaccati i vetri poi Franco glieli voleva dare anche contro di lui no giustamente quindi Marco cerca di difendersi con le mani e Franco lo piglia sulle mani e gli rompe le ossa delle mani al che Marco questa cosa ce l'abbiamo anche in video quindi fino a questo punto è tutto vero perché è videoregistrato dalle telecamere di sorveglianza e sembra che effettivamente sia andata così tra l'altro è stata anche sequestrata questa mazza da golf di cui non ci hanno parlato fino ad oggi quindi ma qui parte la versione incredibile ovvero Marco dice che a quel punto è sceso dalla macchina perché la macchina era in panne allora il il padre Franco gli ha dato delle smazzuccate con la mazza da golf nei vetri è anche un po' sul cofano non credo che sia arrivato con una mazza da golf a rompergli il motore della macchina o impedire la macchina di partire per cui secondo me poteva tranquillamente Marco a quel punto allontanarsi comunque con la macchina tuttavia Marco a quel punto siccome la macchina non partiva più ed era spaventatissimo dalla furia omicida del terribile Franco allora sarebbe sceso dall'auto con l'intenzione di scappare quindi è sceso dalla macchina e ha cominciato a correre si chiama Fabio scusate scusate tantissimo è che per me è un nome difficile da pronunciare Fabio dico sempre bafio e non lo so per me si chiama Franco scusatemi tantissimo figuraccia figuraccia il papà si chiama Fabio Limido non Franco scusatemi scusatemi Marco quindi esce dalla macchina fa per scappare ma Fabio lo insegue con la mazza da golf e lo avrebbe colpito più volte alla schiena a questo punto soltanto per autodifesa Marco ti sarebbe girato e avrebbe accoltellato Fabio più volte uccidendolo per difendersi dalle mazzate non è un omicidio vero e proprio è legittima difesa l'avvocato difensore di Marco che si chiama Fabrizio Busignani sostiene che tutta questa scena è stata interamente ripresa dalle telecamere quindi ci sarà ovviamente un riscontro rispetto a quello che racconta il suo assistito ma io ho delle domande cazzo il culo io ho delle domande uno ma la mazza da golf lui aveva un coltello a serramanico Marco la mazza da golf è molto più lunga di un coltello a serramanico cioè io penso che un uomo armato di mazza da golf e uno con un coltello a serramanico teoricamente dovrebbe avere un vantaggio quello con la mazza da golf perché essendo più un'arma più più lunga ti tiene più a distanza però forse ragiono troppo come nei giochi di ruolo probabilmente se Marco è riuscito in qualche modo ad afferrargli la mazza e cominciare a coltellarlo ha senso che abbia avuto la meglio Marco poi altra domanda Marco io non ci credo che la macchina fosse in panne vi dico la verità perché non è partito con la macchina e basta perché doveva scappare a piedi perché mentre lui gli dava le smazzuccate contro i vetri poteva comunque andare avanti e allontanarsi con la macchina ma ha deciso di scendere dalla macchina e poi scappare benissimo ma perché scappi con un coltello in mano cioè se tu vuoi scappare in quel momento sei la preda cazzo ci fai con il coltello in mano allora io rivedo tutta la scena dal mio punto di vista cioè secondo la mia interpretazione secondo me Marco era dentro la macchina e stava per partire per darsela non per andare a restituirsi per darsela il padre lo vede che sta per fuggire quindi per fermarlo comincia a smazzuccargli la macchina Marco si ingassa come le bestie prende il coltello scende dalla macchina e comincia a dargliene al padre fino a ucciderlo Marco poi spiega che il reale movente del tutto era semplicemente semplicemente vabbè una situazione assai delicata l'impedimento di vedere suo figlio quindi non è che volesse tornare insieme alla ex o fosse possessivo nei confronti della ex o fosse geloso lui voleva che gli permettessero di vedere il bambino e il legale suo avvocato dice l'unica volontà di Marco Manfrinati era stare con suo figlio il divieto di avvicinamento viene applicato nei confronti della persona offesa e il figlio di Manfrinati non è mai stato individuato come persona offesa in nessun atto processuale quale ragione allora non aveva il diritto di vedere il figlio è una domanda a cui io non posso rispondere allora con tutto il rispetto del lavoro di un avvocato difensore che ovviamente cerca di accapigliarsi dove può davanti a un palese colpevole come quello che è il suo assistito io credo che se hai un divieto di avvicinamento per violenze e maltrattamenti percosse nei confronti della madre di quel bambino ma non solo anche di tutti gli altri suoi parenti è chiaro che non ti puoi avvicinare al bambino perché il bambino di tre anni non lo puoi incontrare da solo non è che il bambino ti viene lasciato in mezzo alla strada e tu lo incontri da solo un bambino di tre anni non può essere lasciato solo quindi è ovvio che nel momento in cui tu hai il divieto di avvicinamento alla madre ai nonni a chiunque te lo può portare perché poi il divieto era esteso anche ad altri parenti lui ha minacciato tutti i parenti di Lavinia non so se vi ricordate nella puntata scorsa ve lo dicevo lui ce l'aveva con tutti i parenti di Lavinia chi te lo porta il bambino cioè poi c'è anche da dire un'altra cosa nel momento in cui tu sei violento con tutti e questo viene dimostrato altrimenti non glielo davano il divieto di avvicinamento sta anche in un giudice tutelare un bambino da un'eventuale violenza futura perché tu sei violento con tutti ma non lo sei stato col bambino visto che sei un violento chi ci dà la certezza che poi non lo farai anche col bambino magari proprio per vendicarti della madre se noi ti lasciamo il bambino da solo non è che poi magari finisci come Mattia Scheps si chiama Mattia Mattias come le gemelline Scheps quindi sinceramente bravo invece questo giudice che ha esteso il divieto di avvicinamento anche al bambino piccolo perché ne abbiamo viste veramente troppe di storie dove uno dei due genitori si vendica dell'altro facendo del male al bambino esatto un uomo così violento poi è pericoloso infatti però se il bambino va a scuola tre anni tre anni solo tre anni si può fare che la mamma lo porta e il papà lo va a prendere ma tre anni non va a scuola quello sai è anche solo che veda delle violenze punto appunto anche l'assistere a delle violenze è comunque traumatico per un bambino per la sua crescita la sua salute mentale emotiva eccetera il clima ragazzi intorno a questa vicenda però si è scaldato parecchio essendo diventato un caso particolarmente mediatico in questi giorni la gente è particolarmente incazzata tanto che è successa quella cosa che sta cominciando a succedere ultimamente che ha già cominciato a succedere ultimamente ma che sta succedendo negli ultimi anni ovvero che l'internet se la prende con gli avvocati difensori ora anche a me non è piaciuta l'uscita dell'avvocato però il suo lavoro che cazzo c'entra c'è lui cerca di appigliarsi un po' a quel che può oppure cos'è successo che contro l'avvocato Busignani si è riversata una shitstorm sui social fuori di testa con tanto di minacce di morte insulti atti persecutori nei suoi confronti tant'è che l'avvocato si è trovato costretto a segnalare al presidente della camera penale e al presidente dell'ordine degli avvocati di Varese di essere stato oggetto di minacce di ogni genere a mezzo social ribadiamolo questo chiunque ha diritto ad una giusta difesa anche Alessia Pifferi quindi è assurdo cercare di distruggere gli avvocati che difendono una persona che tu vedi come un mostro o tu vedi come la tua carnefice non è successo soltanto ad Alessia Pifferi grazie zietta tesora non è successo solo ad Alessia Pifferi purtroppo nelle frange della ingiustizia succede anche che chi viene ingiustamente accusato e giustamente si difende e presenta tutte le prove per difendersi se il suo avvocato è troppo bravo viene fatto fuori un altro dettaglio emerso in questi giorni ce lo spiega la mamma di Lavinia Marta Criscuolo colei che tra l'altro si è sentita urlare dietro da Marco bello tronfio mentre veniva caricato nell'auto della polizia e allora come sta adesso tuo marito dopo averlo ucciso quindi secondo me ripeto poverino è il cane senza mutande e Marta anche l'avvocato civilista tra l'altro molto nota nell'ambiente a Busto Arsizio lei conosce bene le carte dei procedimenti contro l'ex genero perché insomma è una famiglia di avvocati praticamente lei Lavinia laureata in legge Marco l'assassino un avvocato la mamma di Lavinia un avvocato Fabio un geologo ma comunque penso che lavorasse sempre nell'ambito della giustizia insomma Marta aveva seguito tutta la vicenda anche perché anche i genitori di Lavinia avevano denunciato Marco non soltanto Lavinia e ci dice una cosa che mi ha veramente lasciato male ci dice il pubblico ministero aveva chiesto l'arresto che è stato negato al posto della misura della custodia cautelare in carcere è stato applicato il divieto di avvicinamento che in casi come questi non serve assolutamente a nulla allora vogliamo imparare qualcosa da queste storie la vogliamo piantare di dare questi cazzo di divieti di avvicinamento che non servono una sega perché tanto questa gente ha una certa non ha più niente da perdere e mondaffanculo tutto purti ucciderti li mettiamo in carcere questi stronzi anziché lasciarli a piede libero finché non fanno il danno che a qual punto non si torna più indietro cioè addirittura il PM aveva richiesto al giudice l'arresto e la misura cautelare dopo un anno dalle denunce quindi comunque pensate vivere un anno dietro a persecuzioni costanti appostamenti minacce di morte quando ti placca essere picchiati un anno così finalmente la giustizia si muove fa qualcosa finalmente il PM dice sì voglio arrestarlo richiede l'arresto al giudice e il giudice dice no no vi vieto di avvicinamento io non so come cacchio fa a dormire la notte questo giudice sapendo come è andata a finire quindi mi auguro che abbiate imparato qualcosa signori che state là in alto con le vostre toghe scintillanti ma non solo il giudice quello lì ma anche tutti gli altri che continuano a fare sempre lo stesso errore di sottovalutare queste figure pericolosissime che per lo più innegabilmente sono uomini ma potrebbero anche essere delle donne una storia come quella di Baby Rindir a mio parere considerato che c'erano anche dei precedenti con la tipa eccetera dovevano arrestarla ma tutto il mondo è paese purtroppo tante volte Marta invece la mamma di Lavinia non parliamo più della serie e ripercorre anche difficilissimi anni ripercorsi trascorsi tra stalking minacce percosse di Marco racconta dei suoi continui appostamenti delle telefonate i messaggi incessanti fatti di insulti di minacce di gomme tagliate delle macchine telefonate tra l'altro registrate e perennemente integrate nella loro denuncia perché voi dovete sapere che quando tu sporgi denuncia non succede niente tu denunci e non succede assolutamente nulla perché prima il PM deve prendere in mano la denuncia poi si deve fare il cappuccino e la brioche per quattro settimane poi apre la prima pagina di prove poi si deve fare il cappuccino e brioche per altre quattro settimane poi guarda la seconda pagina di prove insomma succede mentre loro si fanno i cappuccini e brioche fanno passare il tempo i carnefici reiterano i loro reati perché tra l'altro non vengono nemmeno notificati di questa denuncia per quanto tu glielo dica oppure se ne sbattono completamente la minchia cosa è successo anche a me quindi continuano 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 e tu cosa fai vittima non è che ti fermi a quella denuncia lì ma ogni atto che viene reiterato lo integri a quella denuncia quindi vai cioè puoi allargarla la tua denuncia puoi aggiornarla questa denuncia praticamente questa famiglia non faceva altro che integrare 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 e questi qua non facevano un cazzo quindi lui la menava loro integravano la denuncia con le percosse fotte sega lui tagliava le gomme loro integravano la denuncia con le gomme tagliate fotte sega registravano tutte le telefonate screenshotavano tutti i messaggi integravano fotte sega ed erano avvocati cioè era una famiglia di avvocati che portava avanti questa roba non erano degli operai che si affidavano insomma non sono operai ma dico chiunque fuori dal lavoro della giustizia che si affidavano a dei professionisti che facciano loro le denunce cioè sapevano esattamente come gestire queste cose l'apice è stata una telefonata di Marco che tra l'altro è stata registrata integrata nelle denunce in cui Marco dice tra le tante cose dice qui qualcuno finisce al cimitero o in terapia intensiva hai capito e sembrava quasi un pronostico perché effettivamente lei è finita in terapia intensiva per botta di culo perché stava per finire al cimitero al cimitero c'è finito suo padre Marta conclude dicendo mia figlia ha salvato la vita sua e di suo figlio scappando di casa il 2 luglio del 2022 allontanandosi da quell'uomo che ci ha reso la vita impossibile giravamo con lo spray il peperoncino in tasca lei aveva la guardia del corpo io ho comprato un cane da difesa di una razza utilizzata dall'esercito e che stavo facendo addestrare dopo quanto avvenuto lo terrò per affetto ma non si sa mai ragazzi voi sapete cosa implica tutta questa roba non è che tutti si possono permettere di essere delle vittime per così tanto e poi finiscono male uguale fortunatamente ne era una famiglia che stava bene e quindi si potevano permettere la guardia del corpo l'addestramento del cane tutta un'organizzazione per cercare di salvarsi ma non è che se lo possono permettere tutte e anche quando se lo possono permettere muoiono lo stesso cioè o voli il più lontano possibile rifacendoti una vita da un'altra parte cercando di nascondere le tue tracce in modo tale che non riescano mai più a rintracciarti questi soggetti in attesa che la giustizia dopo anni faccia il soccorso questo è per esempio il mio caso o crepi bona crepi e non non siamo in molte ad avere i mezzi la fortuna di poter scappare da sta gente quindi continuo innanzitutto a ringraziare voi che mi permettete di fare questo lavoro che posso fare da ovunque e quindi mi posso spostare sono potuta andare anche molto lontano dove mi torturavano dove mi facevano stalking e minacce di morte e se io posso salvarmi è grazie a voi ragazzi perché se voi non sosteneste questo canale e io non avessi un lavoro col cazzo che potrei stare negli Stati Uniti continuando a fare il mio lavoro continuando a avere la mia vita per cui cioè quando io dico voi mi avete salvato la vita è vero che lo avete fatto perché mi siete stati accanto perché mi avete dimostrato un amore infinito e io di questo non vi sarò mai abbastanza grata ma l'avete fatto anche da un punto di vista di sostegno perché io campo dei vostri abbonamenti ragazzi io campo dei vostri abbonamenti campo delle pubblicità che si cuccano quelli che non hanno l'abbonamento per cui cioè raga grazie davvero sempre infinitamente grazie la mia vita è stata nelle vostre mani è stata nelle vostre mani quando tra l'altro me lo volevano togliere questo lavoro così io ero costretta a tornare a casa così mi potevano fare male ancora ma voi siete stati qui con me ma avete comunque tenuta in piedi e è stato un lavoro di squadra quello che abbiamo fatto quindi grazie ragazzi grazie mi avete reso una di quelle vittime fortunate che ha potuto allontanarsi dal carnefice dai carnefici aspettare la giustizia che come vedete in meno di due anni non si muove sono passati adesso due anni anche per me infatti si sta muovendo adesso ed è tutto grazie a voi raga quindi tanto amore tanto 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 amore passiamo alla prossima notizia ragazzi perché è scomparsa questa adolescente si chiama Denise D'Arrò di apostrofo Arrò è una ragazzina di 17 anni che è scomparsa da trappitello una frazione di Taormina che conoscete tutti Taormina penso comunque in provincia di Messina in Sicilia è una chicca Taormina veramente bellissima ci ho lavorato Taormina per qualche giorno e mi sono innamorata a parte che per raggiungerla devi fare tutte le strade che vanno un sacco in salita però vedi queste ville meravigliose è un luogo diciamo piuttosto fighetto è piuttosto ricca Taormina mi sembra di capire e credo di aver assistito a uno di quei rarissimi momenti in cui a Taormina ha nevicato ho visto la neve a Taormina è stato veramente bello non dimenticherò mai comunque lei scompare da trappinello da una casa popolare dove appunto vive con la sua famiglia scompare il 2 di maggio si allontana a piedi intorno alle 20 dopo aver discusso con sua madre a proposito del cagnolino di Denise ora io non lo so perché purtroppo se ne parla veramente a spizzichi di questo caso sono tutti molto allarmati per la scomparsa di questa ragazza perché ormai è una settimana che non si hanno notizie di lei tuttavia si sa veramente poco perché per esempio io non so se il cagnolino facesse parte della famiglia o se l'avesse tipo appena portato a casa Denise non fosse stato accettato da sua madre in ogni caso io so solo che hanno litigato Denise e sua madre su una questione legata al cagnolino e quindi Denise ha preso su col cagnolino ed è uscita e poi non è più tornata ma un'altra cosa che mi lascia veramente l'amaro in bocca è che lei scompare la sera del 2 di maggio ma i genitori denunciano la sua scomparsa solo mercoledì 8 maggio ci eravamo tanto indignati per i genitori del ragazzo del mistero del camino perché avevano denunciato la sua scomparsa solo dopo 5 giorni qui addirittura dopo 6 ci eravamo indignati hanno detto sì però si vede che non gli volevano tanto boh raga è scomparsa da 6 giorni denunciato dopo 6 giorni e in più la famiglia non vuole rilasciare dichiarazioni quindi non non hanno parlato con i giornalisti non hanno dato anche per questo sappiamo pochissimo perché la famiglia non si espone quindi si cerca di mandare avanti questa notizia facendo degli appelli ma lo fanno i giornalisti gli appelli è triste è tutto molto triste e niente ovviamente ci auguriamo che lei al momento sia in un luogo protetto anche perché è scomparsa con il cane mao 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 vieni qua dai su cosa fai lì nell'angolo voi adesso non lo vedete ma dove sei dove sei dove sei dove sei è lì lì mao mao vieni qui dai vieni 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 mao 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 niente non c'è verso non ce la possiamo fare non lo convinceremo rimarrà lì o poi andrà nelle sue stanze nei suoi appartamenti speriamo che i genitori sappiano secondo me hanno aspettato fino all'ultimo a denunciare perché forse non volevano che si sapesse tutto il contesto ora ovviamente spero che non sia una situazione così nera come immagino spero che siano solo le mie fantasie oscure però il contesto in cui ci viene presentato questa scomparsa non fa certo ben sperare nel contesto familiare allora ragazzi c'è un colpo di scena per quanto riguarda l'omicidio suicidio di Palermo sembrava infatti un caso risolto facilmente nella sua dinamica e invece quello che sembrava un palese omicidio suicidio potrebbe rivelarsi effettivamente un giallo facciamo del caso di Palermo dove in un appartamento in via Notabartolo sono stati ritrovati i corpi dei due coniugi Pietro Delia e Laura Lupo lui era un commercialista di 65 anni lei una poliziotta della municipale di 62 anni il cellulare è spento inizialmente si era ricostruito il caso come omicidio suicidio avvenuto per mano e volontà di lei di Laura avevano anche individuato un possibile movente considerato che Laura era molto molto gelosa del marito convinta che lui la tradisse in un modo o nell'altro quindi si era giunti alla conclusione che lei potesse averlo ucciso per questo inizialmente noi sapevamo che lui è stato ucciso con quattro colpi di pistola tra il torace e l'addome lei invece pare si sia uccisa da sola inizialmente sapevamo questo erano bravissime innamoratissime dunque torniamo indietro un attimo avevo capito che il primo colpo era non mortale comunque un colpo dato di striscio quindi poi ci aveva riprovato e si era sparata alla testa ecco perché era riuscita a spararsi due volte diciamo un caso assai raro e avendo trovato il corpo di lei con la mano che stringeva ancora la pistola ovviamente la dinamica sembrava piuttosto chiara mi era venuta questa fantasia all'inizio e poi ho detto vabbè buga non l'esprimere perché non hai esperienze in merito effettivamente casi del genere non erano ancora successi di solito i suicidi anche con la pistola raramente mantengono la pistola in mano un po' per il contraccolpo un po' perché nella morte comunque la mano magari si apre la pistola cade difficile che rimanga in mano di solito la si trova in mano quando c'è un assassino che vuole simulare un suicidio e ti mette la pistola in mano no? abbiamo visto in mille mila film questa cosa però ho detto vabbè l'hai vista nei film cazzo stai a dibuola e invece invece e invece dopo l'autopsia è emerso che il corpo il colpo al collo è stato molto più mortale di quanto sembrasse quindi sparandosi al collo in pieno questa donna è impossibile che sia riuscita a spararsi due volte impossibile che sia sparata al collo e poi alla testa perché già sparandosi al collo era morta e quindi chi ha ucciso questa coppia per poi mettere la pistola in mano di lei? d'altra parte però c'è anche da considerare che l'appartamento dei due che si trova al terzo piano della palazzina in cui vivevano era chiuso dall'interno e non c'erano segni di effrazione quindi cos'è successo dentro quella casa? Qualcuno che aveva le chiavi che è riuscito a chiudere la casa poi magari l'ha chiusa dall'esterno come si fa a capire se una casa è chiusa dall'interno o dall'esterno perché c'è magari un doppio giro c'è un catenaccio noi sappiamo che ci sono stati dei casi in particolare è successo a un po' di carabinieri suicidi che si sono uccisi incredibilmente con due pallottole però è una cosa più unica che rara soprattutto quando c'è della corruzione dietro che si risolvono i casi così per cui nel momento in cui non c'è nessuna corruzione e le indagini vengono fatte a modino ecco che è impossibile che una persona si tolga la vita sparandosi due volte ora io non so cosa dirvi ragazzi perché questo è quello che è emerso ovvero non possiamo dare per scontato che sia un omicidio suicidio però è anche molto difficile che qualcuno sia riuscito ad entrare chiudendosi la porta dall'interno ecco infatti confidiamo nelle impronte ragazzi confidiamo nelle impronte se questo qui ha messo la pistola nelle mani della povera Laura probabilmente avrà lasciato anche delle impronte a meno che non sia un grande professionista che ha usato i guanti ha usato tutto a quel punto diventerà impossibile per le nostre forze dell'ordine scoprire la verità torniamo un attimo sull'omicidio di Bicinicco in provincia di Udine dove una donna Silvia Comello di 42 anni ha ucciso l'amico conosciuto da pochissimo che tra l'altro aveva conosciuto al CERT Stefano Iurig di 43 anni l'omicidio è avvenuto sabato sera 4 maggio è stata proprio lei a chiamare i soccorsi dopo aver accoltellato Stefano con forbici in una mano e coltello da cucina nell'altra e lo ha colpito in faccia in testa e nel collo moltissime volte fino a sfigurarlo completamente per poi versargli addosso l'acido muriatico voi avete detto che effettivamente l'acido muriatico non scioglie i tessuti non sfigura i volti però continuo a trovare in ogni articolo che leggo lo ha sfigurato con l'acido muriatico lo ha sfigurato con l'acido muriatico non c'è articolo che non citi sfigurato con l'acido muriatico quindi io non so che dirvi ragazzi ho veramente guardato più e più fonti ma tutti ripetono la stessa frase come un mantra quindi è vero anche che i giornali spesso fanno copia e incolla però da qualcuno l'avranno copia e incollato sappiamo anche che lei è stata trovata dai carabinieri in stato confusionale che ha farfugliato di averlo ucciso quindi c'è stata diciamo una confessione sul momento dicendo che gliel'aveva ordinato Satana questo quando loro sono intervenuti che l'hanno trovata lei e adesso finalmente ho una sua foto ve la posso mostrare l'hanno trovata in strada in stato confusionale è ricoperta di sangue e che farfugliava tra cui l'ha ucciso perché l'ha detto Satana alla fine lei è risultata positiva alla cocaina e ha detto che il movente per cui ha ucciso Stefano era che le aveva dato questa cocaina difettosa questa cocaina brutta e cattiva e quindi lei si era arrabbiata moltissimo avevano cominciato a litigare e lei era andata nell'ira funesta c'è un giallo in questa storia che sembrava abbastanza chiara il giallo è che lei ha chiamato tre volte il 112 quella sera dicendo sempre che dovevano arrivare lì perché aveva ucciso il suo amico ma durante una di queste tre telefonate voleva esserci con lei un terzo uomo diciamo dovrebbe dovuto chiamare questo djcrime il terzo uomo infatti in una di queste tre chiamate che lei ha effettuato tra le 21 e 21 e le 21 e 35 si sente una voce chiaramente maschile in sottofondo che parla ma al momento non si capisce bene cosa dica né a chi appartenga a questa voce Silvia si è trincerata nel silenzio non parla con gli inquirenti parla solo con la sua avvocata che si chiama Irene Lenarduzzi che ipotizza ha senso ipotizza che possa trattarsi in realtà soltanto di un passante questo uomo è satana palese satana stasera tra l'altro cosa facciamo qua in live senza satana senza cielo quindi secondo la sua avvocata in realtà si tratta di un passante potrebbe trattarsi ovviamente di un passante che appunto quando lei ha fatto le chiamate si trovava in strada e ne è stato confuso mai ricoperta di sangue ci sta che qualcuno passi e dica che cazzo faccia qualche commento vedendo una persona ricoperta di sangue certo ci sta meno che se ne riparta per la sua vita e se ne sbatta altamente le balle però succede l'ipotesi l'ipotesi degli inquirenti però è un'altra secondo loro lei dopo il delitto ha contattato qualcuno ha chiamato qualcuno che avrebbe in qualche modo avuto la possibilità di agevolarla nella fuga però questa cosa per me non ha senso c'ha molto più senso in realtà il passante perché se lei avesse chiamato qualcuno per farsi aiutare nella fuga e sarebbe fuggita prima di chiamare il 112 che senso avrebbe chiamare il 112 tre volte quando sei ancora lì sulla scena insomma lontano sì sulla scena poco lontano perché era sulla strada se hai una persona che è lì per aiutarti a scappare cioè è un po' strano comunque durante il colloquio con Silvia la sua avvocata si è fatta un po' spiegare meglio il movente e qui abbiamo versioni veramente contrastanti perché prima agli inquirenti quando è stata trovata in mezzo alla strada ha detto che ha ucciso perché Satana gliel'ha detto mentre la sua avvocata ha detto in Stefano ho riconosciuto il demonio per questo l'ho colpito alla testa è lì che si nasconde dovevo farlo per liberare il mondo dal male grazie Silvia grazie meno male che ci sei tu che ci hai liberati dal male meno male e ovviamente il demonio risiede nel cervello cioè laddove tu hai anche a livello simbolico per l'essere umano la sede della ragione è interessante che lei dica il demonio è nella testa no? è nel cervello non è nel cuore non è nel cazzo non è nel culo è nella testa però io ho una domanda satana non è quello che vive nelle fiamme dell'inferno che sta lì al caldo 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 con le fiamme il fuoco tutto cioè perché questa convinzione che tra l'altro abbiamo visto anche nella strage di Altavilla questa convinzione che il demonio deve essere cacciato con le fiamme ci sta da dio lui in mezzo alle fiamme è casa sua cioè vogliamo anche dargli un beverino un po' di mangime andiamo avanti perché c'è un giallo in cui io credo di averci preso alla grande e aspetto ovviamente i prossimi sviluppi investigativi ma secondo me lo risolveranno perché credo sia abbastanza palese chi è stato vi ricordate il tabaccaio di Jesolo? quello in cui avevamo detto ehi però chi è che avrebbe avuto interesse a uccidere un uomo che si faceva in casse suoi che non dava a fasi da nessuno che stava in casina sua boh forse qualcuno che voleva dell'eredità quindi mi vengono in mente giusto i parenti e l'avevo buttata lì proprio solo sulla base del movente ora che sono venuti fuori tanti altri dettagli comincia a avere sempre più senso questa pista ma cominciamo dall'inizio stiamo parlando del giallo di Jesolo paese dove il 6 maggio viene rinvenuto il corpo di Roberto Basso un tabaccaio di 64 anni che viene trovato in casa sua con diverse ferite al collo alla testa al collo diciamo alla nuca qua dietro finalmente viene scartata definitivamente la pista dell'incidente domestico più che altro perché hanno visto che innanzitutto non c'era niente contro cui avrebbe potuto sbattere cadendo all'indietro di così appuntito poi perché sono stati inferti più colpi quindi se cavi all'indietro e ti infilzi contro qualcosa di appuntito lo fai una volta quindi diciamo che a questo punto l'incidente è assolutamente scartabile quindi la procura di Venezia ha aperto un fascicolo per omicidio volontario il corpo io inizialmente avevo detto che aveva dei segni sul collo ma non è esattamente così in realtà quando dicevano collo intendevano dietro il collo quindi la nuca le ferite sono tutte alla nuca inferte con un oggetto appuntito tipo un cacciavite questo oggetto non è ancora stato ritrovato ma gli inquirenti stanno scandagliando con i droni con cose le campagne circostanti perché se vi ricordate lui abitava in questa villetta isolata in mezzo alla campagna quindi è possibile che l'assassino o gli assassini abbiano abbandonato l'arma scappando anche se non è una mossa furba io vi consiglio sempre se dovete uccidere qualcuno di portarvi dietro l'arma e fonderla distruggerla proprio renderla assolutamente irriconoscibile distruggere ogni molecola oppure separare tutte le molecole di cui è composta perché perché lo sto dicendo comunque chiamare il 118 stato il cognato di Roberto noi avevamo una versione molto semplificata di questa vicenda cioè vi avevo raccontato fondere l'arma nel accio muriatico esatto noi eravamo buttatele nel monte fato ragazzi l'unico modo di andare al monte fato noi eravamo rimasti che il fratello era andato a controllare a casa di Roberto perché Roberto quel giorno non aveva aperto la serranda del suo negozio e questa serranda abbassata di lunedì aveva fatto allarmare tutti i negozianti che quindi avevano contattato la famiglia e tutto non è andata proprio così più dettagliatamente è stato il cognato di Roberto Luigi Rossi marito della sorella Francesca Basso sorella appunto di Roberto Basso che ha chiamato il 118 intorno alle 11.30 del mattino ma qua succede qualcosa di strano perché se il corpo fosse stato trovato effettivamente alle 11.30 il tutto aveva senso ovvero Roberto non ha aperto il negozio aveva la serranda abbassata lo è stato per la maggior parte della mattinata così e quindi i negozianti si sono allarmati hanno chiamato il fratello che è andato a vedere quindi alle 11.30 succede tutto il che ha senso ma invece il fratello Andrea Basso fratello maggiore di Roberto è andato molto prima controllare a casa di Roberto verso le 8 del mattino e io mi chiedo come sia possibile che si fossero già allarmati alle 8 perché se lui era lì alle 8 vuol dire che si è allarmato prima delle 8 e a che ora apre il tabaccaio come facevano a essere già preoccupati prima delle 8 perché la serranda del negozio era chiusa è un po' strano è venuto fuori che quindi verso le 8 il fratello più grande Andrea era andato a controllare perché non aveva aperto la tabaccheria sorvolando questo ma tenetelo comunque in considerazione nella equazione o disequazione insomma del qualcosa che non torna Andrea racconta che non riuscendo ad entrare in casa di Roberto perché la casa era chiusa dall'interno dice di essere salito al primo piano usando una scala che ha appoggiato alla ringhiera esterna e di essere riuscito addirittura a toccare il corpo della vittima del povero Roberto verso la fessura di un vetro rotto questo aveva ricordate questa scena piuttosto horror in cui il fratello non riesce ad entrare in casa però vede il corpo di Roberto steso e quindi attraverso la porta finestra una fessura tocca questo cadavere si rende conto che non dà segni di vita ma erano le 8 perché l'allarme viene dato alle 11 e mezza cioè hanno scoperto il corpo alle 8 e la chiamata al 118 arriva alle 11 e mezza tre ore e mezza dopo questo è strano molto troppo strano e questo è il primo di una serie di interrogativi su cui gli inquirenti si stanno concentrando e che puzzano i vicini di casa di Francesca Basso escludono di sì di tra fratelli o altri parenti cioè da dire che qui i testimoni si spaccano in due ci sono dei testimoni che dicono no loro tra fratelli andavano super d'accordo perché sono tre fratelli ragazzi Roberto che è la vittima Andrea il maggiore c'è Francesca anche c'è da una parte un tot di testimoni soprattutto facenti parte della famiglia che ritengono che tra i fratelli non ci fossero problemi nei litigi benché meno menché meno per questioni ereditarie perché le rispettive parti della proprietà della famiglia erano state divise da diversi anni ma questo non vuol dire che magari uno di questi fratelli avesse bisogno di più soldi e volesse anche una fetta che non gli spettasse dovete sapere che questa famiglia comunque aveva delle proprietà che fruttavano bene avevano un hotel che aveva in comproprietà Roberto insieme ad Andrea hotel Rex a Jesolo e ragazzi in hotel a Jesolo minchia se frutta la tabaccheria che gestiva Roberto e avevano degli appartamenti in piazza Trento che si erano divisi insomma tra i fratelli quindi comunque delle entrate non non da poco pure nonostante i vicini di casa di Francesca e altri sostengano che tra i fratelli no ma non litigavano mica no ma andavano d'accordo un testimone a volto coperto quindi vuol dire comunque una persona che si caga in mano e anche questo dovrebbe essere tenuto in considerazione che è spaventata questa persona si è fatta intervistare l'8 di maggio ieri per voi alla vita indiretta il programma RAI che parla di cronaca riferendo di aver assistito a liti furibonde plateali in tabaccheria di aver assistito a questo Andrea fratello maggiore che ritrova il cadavere che andava nella tabaccheria di Roberto e furioso gli rovesciava tutto cioè gli faceva il teppista rovesciava gli espositori delle cartoline per terra lanciava le calamite i gadget che lui vendeva fuori dal negozio in mezzo alla strada urlava gli metteva tutto sotto sopra e poi se ne andava e il povero Roberto che pian pianino raccoglieva tutto rimetteva tutto in ordine nell'imbarazzo davanti ai clienti e gli altri negozianti di vivere scene di questo tipo dalle immagini delle telecamere i carabinieri sono riusciti a ricostruire che Roberto con certezza la sera prima quindi la domenica sera era rimasto in tabaccheria fino alle 23.50 non è una cosa così rara che lui rimanesse fino a tardi perché stava lì faceva la contabilità i conti le robe si sistemava e in più quella domenica era stata una giornata piena di clienti perché c'era un evento ciclistico non ho presente vabbè c'era un evento che aveva portato molti turisti agli esologi poi l'esame autoptico aveva indicato come epoca della morte tra le 22 e la mezzanotte questo esame autoptico è stato fatto ovviamente precedentemente alla visione delle immagini delle telecamere e con certezza il medico legal ha detto no 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 probabilmente gli hanno preso la temperatura hanno un dato scientifico rispetto a questo immagino che abbiano fatto la temperatura del fegato quindi tra le 22 e mezzanotte lui doveva essere morto eppure le 23 e 50 era lì forse queste queste misurazioni dell'epoca della morte non sono così precise e mi torna in mente tutti quei casi in cui hanno incastrato lui per l'epoca della morte e invece capiamo che si può sbagliare olè quindi non è un giallo ma semplicemente dobbiamo renderci conto che a volte non è così scientifico preciso il Sandro Pavan il figlio quarantenne del gelataio che lavorava accanto alla tabaccheria di Roberto quindi si conoscono bene dice era benestante una cosa che non sapevamo è che Roberto era benestante ma stento a credere che qualcuno avrebbe potuto notarlo che non aveva l'aria di una persona ricca mi ha cresciuto e so che di tutto ciò che guadagnava non spendeva nulla quindi era un tipo che viveva un po' da formichina nonostante avesse buone disponibilità non ha mai cambiato l'auto né ristrutturato il negozio non ne sentiva il bisogno era il suo modo di vivere tutto casa lavoro e risparmio senza mangiarsi neanche una pizza fuori se Roberto custodiva vizi o segreti di sicuro li nascondeva bene secondo me secondo me è qui parenti serpenti proprio ciao golden si dice pavan ah no pavan si dice pavan oggi sbaglio tutti gli accenti tonici veramente grazie total grazie mille pavan scusatemi a questo punto gli inquirenti si stanno chiedendo se sia stato questo omicidio frutto di una vera rapina finita male perché effettivamente devono ancora capire quanto tempo quanti soldi avesse con sé dell'incasso Roberto quando è tornato a casa perché potrebbero effettivamente avergli portato via solo l'incasso che aveva in tasca quella giornata o se non mancando niente da casa la rapina il vetro rotto più che altro perché effettivamente non cambia nient'altro in casa manca nient'altro in casa sia stata soltanto un depistaggio io voto per la seconda secondo me oh dai lo dico fuori dai denti secondo me c'entrano i parenti e secondo me i parenti hanno rotto il vetro lo hanno ucciso gli hanno tolto anche quello che aveva addosso così per simulare la rapina però non hanno pensato di derubare magari tutta la casa nella fretta ma la la prova regina secondo me qui è l'allarme non è tutto quello su cui si stanno concentrando i giornalisti secondo me qui la chiave sta proprio nel momento in cui viene dato l'allarme troppo tardi rispetto a quando è stato trovato il corpo e troppo presto per preoccuparsi già prima delle 8 del mattino perché lui non era andato al lavoro quindi sì è stato Bossetti è stato Bossetti allora mercoledì 8 maggio è andata in onda a chi l'ha visto la prima intervista esclusiva di Milena che la vediamo così e dice racconta un po' tutta la vicenda dal suo punto di vista in realtà non dice niente di nuovo rispetto a quello che era riportato dai giornalisti però sentirlo dalla sua voce cambia un pochino si era accumulato tanto stress in me soprattutto lo tenevo per me avevo creato un muro e nessuno capiva veramente il grado del mio il grado molto alto del mio stress perché comunque sono una persona che sorride sempre molto probabilmente il sorriso negli occhi però non c'era diciamo che era il posto quando gli chiedono cosa ci faceva insomma lì a Torino di Sangro diciamo che era il posto che avevo scelto per lasciare per lasciare tutto avevo messo le foto sullo stato di Whatsapp perché comunque si potesse trovare subito la mia auto e il posto in cui ero sparita quindi lei dice che ha fatto tutto questo perché venisse trovato poi il suo corpo volevo tornare al mare darmi al mare però nel momento in cui mi sono messa sulle rovine per buttarmi c'è stato un ripensamento c'è stato un ripensamento e ho detto non è il momento non è il momento ma non voglio tornare a casa e voglio voglio godermi la natura e ho iniziato a camminare senza meta tante ore ho camminato tante ore per diversi giorni e sono arrivata dopo due tre giorni in Molise scusate negli appunti ho scritto 60 metri 60 chilometri cioè lei ha camminato 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 perché ha detto non è il momento di togliersi la vita adesso voglio godermi la natura quindi cammina seguendo sempre la costa fino ad arrivare in Molise cioè lei avrebbe fatto 60 chilometri piedi in due giorni vero che è cioè Forrest Gump esatto cioè vero che è allenata è una maestra di fitness e di danza è una persona comunque in forma ma 60 chilometri piedi in due giorni cioè no so regà esatto bibi è tutto così strano è tutto così strano avevo lasciato tutto a casa perché il gesto non era quello di andare a camminare quindi non avevo nemmeno un centesimo niente zero né l'acqua né da mangiare quindi chiedevo gentilmente a delle persone di bar e negozi se potevano offrirmi qualcosa non dicendo ovviamente la verità e qui ragazzi io continuo ad essere titubante perché la sua faccia era ovunque era nelle prime pagine dei giornali l'avevano mandata al telegiornale tutti i programmi di cronaca se ne occupavano mi sembra veramente strano che lei potesse aver chiesto aiuto a delle persone e che queste non l'avessero riconosciuta poi dice dove dormivi la notte viene chiesto lei dice dormivo sui lettini degli stabilimenti balneari soprattutto ma anche seduta sui gradini di una parte coperta di un qualcosa un po' vago dei signori che erano in piazzetta ho chiesto dove fosse il mare perché non lo trovavo e non lo vedevo per essere sicura questi signori mi diedero indicazioni di passare attraverso un'oasi e quindi mi sono incamminata in questo sentiero verso l'oasi il mio posto ultimo un paradiso l'ho visto e ho detto va bene questo posto mi sono seduta sulla sabbia appoggiata ad un tronco perché lì è pieno di tronchi e sono stata tre o quattro ore a guardare le onde del mare il cielo bellissimo e a pensare a questo punto come saluto finale i miei figli e la mia famiglia tutti quelli che mi volevano bene ho provato ho provato a immergermi in acqua però poi di nuovo sempre con questo pensiero di tutte le persone che mi volevano bene ho detto torna a casa quindi che ho fatto ho iniziato a correre verso il paese nel frattempo però era buio chiedevo aiuto alle macchine però non si fermavano ovviamente era buio non sapevano chi fossi quindi ho deciso di andare verso il paese dove c'era il primo bar che ho dove c'era il primo bar che ho trovato sono entrata e mi sono fatta vedere poi mi è stato chiesto se aveva detto subito ai suoi parenti la verità e lei dice no io sono in commissariato ho detto la verità per 24 ore ho di nuovo messo il muro e non dicevo niente a nessuno non ho mai detto niente a nessuno non me la sentivo non ho detto niente a nessuno non me la sentivo in quel momento poi il giorno dopo ho parlato con mia sorella ora non è impossibile come cosa ma è una concatenazione di eventi improbabili che uno dopo l'altro non si sono verificati a questo punto più che altro mi chiedo veramente come sia possibile che nessuno abbia notato questa donna cioè va bene non tutti ma nessuno no questa era nelle piazze entrava nei locali non si nascondeva da nessuna parte lei stessa vedeva i titoli di giornali che parlavano di lei adesso però lei vuole che sia questa la verità se viene fuori che è vero cioè se è tutto vero quello che lei dice lei verrà indagata per procurato allarme e simulazione di reato non stiamo scherzando comunque raga in tutto questo c'è un'ottima notizia almeno dal mio punto di vista poi non so se voi odiate i cani che mangiano i bambini io no tuttavia c'è una buona notizia forse si sta andando verso l'abolizione della pena di morte anche per gli animali che sarebbe una cosa bellissima vero mao lo vedo d'accordo lo vedo d'accordo allora vi devo leggere questa notizia vi ricordate i due pitbull che avevano sbranato e ucciso il bambino piccolino a eboli e che ovviamente erano stati trattenuti e si doveva decidere se abbatterli o meno beh leggiamo eboli bambino sbranato dai due pitbull i cani non saranno abbattuti ma recuperati l'oipa l'oipa dice decisione dei magistrati rispetta la vita degli animali vede che ogni tanto fanno cose buone la comunità di eboli è ancora scossa dopo la tragedia dello scorso 22 aprile quando un bambino di 13 mesi Francesco Pio D'Amaro è stato ucciso da due pitbull Totò e Pablo la decisione della procura di Salerno diretta dal procuratore Giuseppe Borrelli di non procedere con l'abbattimento degli animali ma di optare per un percorso di rieducazione è profondamente diviso l'opinione pubblica no senti se c'è anche qualcuno che ci si mette contro io li vado a cercare a casa uno dopo l'altro i due cani che sono stati temporaneamente dissequestrati sono stati affidati ad una struttura specializzata dove subiranno un intenso programma di recupero comportamentale che in realtà non è che ne avessero bisogno semplicemente c'è stata una situazione per cui erano relegati in un posto ristretto per troppe ore al giorno e Marina su Roma ti aiuta questo processo finalizzato a modificare i comportamenti aggressivi mostrati a garantire che non rappresentino più un pericolo per la società punto è una frase che non ha senso questo processo è finalizzato i costi di tale riabilitazione saranno interamente a carico dei proprietari dei cani ottimo lo rende noto l'OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali che si congratula con i magistrati che hanno preso una decisione che va nel rispetto della vita dei due animali sottolineano e che dà loro una prospettiva di recupero già al momento i cani sono in un rifugio nel casertano e in quanto si apprende dovranno essere sottoposti ad un percorso di recupero a Napoli lo hai già detto se i proprietari decidessero di non sostenere economicamente questo percorso gli animali saranno dati in affido dopo essere stati recuperati il dibattito questa scelta ha innescato un acceso dibattito ma posso farlo anche con gli orsi questa scelta ha innescato un acceso dibattito sui social media e nelle comunità locali con opinioni fortemente polarizzate alcuni cittadini attivisti per i diritti degli animali sostengono la decisione di riabilitare Totò e Pablo puntando il dito contro le potenziali negligenze dei proprietari anche i proprietari andrebbero rieducati secondo me e l'ambiente in cui i cani sono cresciuti d'altra parte via che crede che data la gravità dell'incidente l'unica soluzione sicura sarebbe l'abbattimento ma io abbatto voi l'OIPA afferma in una nota auspica che questo indirizzo della procura di Salerno faccia scuola e che sia un modello da seguire in casi analoghi dove i cani impegnativi siano protagonisti di episodi di aggressione più o meno gravi ma magari preveniamo prevenire è meglio no? ora la mia testa malata si immagina l'orso inseduta con lo psicologo detto questo l'associazione torna a chiedere al legislatore di regolamentare la detenzione di determinati tipi di cani ecco prevenzione che troppo spesso vengono scelti anche da persone non in grado di gestirli correttamente a livello locale alcuni comuni come quello di Milano hanno regolamentato la materia prevedendo la concessione di patentini per la detenzione di alcune razze o similrazze similrazze? beh in generale se hai un cane credo che tu debba comunque avere un determinato una determinata educazione perché anche solo per non ritrovarti con un cane che ti distrugge la casa che vuole aggredire chiunque perché anche un chihuahua che è piccoletto va bene non ti può sbranare ma potrebbe diventare ingestibile e insopportabile se non viene poi educato adeguatamente potrebbe tenere svegli tutti potrebbe disturbare i vicini cioè anche questo non è che sono cagate quindi avere una un'educazione una preparazione nel gestire un cane secondo me è fondamentale per tutte le razze salutano? gli orsi gli orsi ogni tanto salutano si fanno così con la zampa e poi te la spatagnano in faccia per distruggerti ma ma è collassato mi sa di sì è collassato tipo tigre sull'albero Mao 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 e non gli ho dato la soddisfazione di soffrire questa cosa ma indubbiamente l'ho sofferta tantissimo è Elisa, non lo so questo non lo so davvero ma è la grande domanda non ve lo so dire non lo so ma non ti vergogni un po' sai che ti stanno guardando in 300? per poter sopravvivere ed esistere lo stalker ha bisogno della vostra attenzione crea falsi profili per poter diffondere fake news e far credere alla gente che le sue bugie sono l'unica verità lo stalker contatta i vostri amici i vostri parenti e i vostri colleghi di lavoro con toni gentili per far credere di essere colui che li mette in guardia sul vostro conto lo stalker vi spia e vi fa spiare per avere quello che mai ha ottenuto realmente nella propria vita ovvero il controllo ricordate lo stalker si nutre della vostra paura della vostra frustrazione della vostra ira per cui grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti